Corazione Secondo me è troppo bacon Oggi andiamo verso nord Kuwi Changbei e Duncan Sa tutto lei Ma sa centone Alla prossima è troppo? si, quando mai? siamo arrivati in anaimo l'albergo per fortuna dentro è meno peggio di quello che si va fuori perché fuori è una schifezza questo albergo ha una particolarità si trova in bagno questo interruttore che controlla questa lampada si gira l'interruttore accendi la lampada che è una lampada abbronzante così ti puoi abbronzare grazie